Grazie a tutti. Grazie a tutti per essere qui e per aver aderito all'invito del professor Armando Pelella ed è una gioia vederli anche così numerosi. Innanzitutto devo scusare l'assenza del sottosegretario Walter Ferrazza ma ragioni familiari molto belle. Questo equilibrio familiare gli ha imposto di restare accanto alla sua signora perché proprio ieri mattina gli è nato Selvaggia, questa bellissima bambina. Per cui l'accogliamo Selvaggia. Quindi non sono motivi istituzionali, sono ben altri motivi che lo hanno costretto a non essere presente al nostro incontro. L'incontro di oggi, e do subito quindi la parola al professor Armando Pelella, ha un titolo accattivante. I liberali italiani, quale futuro? Il relatore dell'incontro è il professor Avvocato Giampiero Samorì, presidente del MIR. Movimento moderati italiani in rivoluzione. Sembra quasi di mettere insieme l'acqua santa e il diavolo, rivoluzione, moderati e i liberali italiani. In realtà io credo che la storia faccia giustizia e questi due termini si coniughino perfettamente. Perché la storia insegna che anche i liberali sono stati dei veri rivoluzionari nel creare la nostra società civile di oggi. Credo che assieme avremo veramente un futuro nel costruire quella che nessuno ad oggi è riuscito a costruire, che è la casa dei moderati e dei liberali nel nostro Paese. Paese che ha tanto bisogno di una nuova classe dirigente, liberale e moderata. Mi fermo qui perché porterei via il tempo al professor Pelella e all'Avvocato Samorì. Passo la parola a D'Armano. Amiche ed amici liberali, sono commosso, dire commosso è poco, ma sono anche molto molto felice. commosso perché forse stasera non ci sarei dovuto essere qui, perché quando mi accingevo a trascorrere un breve periodo di ferie con la mia famiglia, prima di agosto il mio cuore faceva le bizze ed è stato grazie al professore Aldo Celentano che è qui presente e successivamente al mio amico fraterno, il professore Eugenio Rogliani, se io sono ancora qui, per cui la mia gratitudine è imperitura nei confronti di questi miei grandissimi amici. ma sono ancora più commosso perché in questo periodo di questi tempi avere la possibilità, quasi non ci credo, mi sembra un sogno, che al mio invito abbiano aderito tanti e tanti amici in un periodo diciamo di grave difficoltà in politica e per me è un onore, per me è una grande soddisfazione, motivo di grande e grandissima felicità e dico grazie a tutti quanti voi amici. un grazie ancora va a qualcuno anche forse di colore diverso che ha voluto rendermi onore con la sua presenza per cui colgo l'occasione di ringraziare il professore Angelo Montemarano che ho visto qui con la sua signora, il professore Pippo Papacioli, l'onorevole Sergio Iannuccelli, l'onorevole Carlo Avetta, il mancato ma futuro sindaco penso di Napoli Gianni Lettieri e l'onorevole Marco Calabrese. Ma devo leggervi, sono soltanto due righe, quanto mi ha scritto il Presidente del Partito Liberale, il Senatore Enzo Palumbo. Caro Ermanno, come sai non mi sarà possibile partecipare al convegno di domani da te organizzato con l'importante partecipazione degli amici del Mir, Gianpiero Samorì, Gerardo Meridio e Walter Ferrazza che ti prego di salutare a mio nome. Credo che il convegno di domani possa essere un importante momento di confronto nel tentativo difficile, ma non impossibile, di individuare tutti insieme un percorso comune che contribuisca a creare anche in Italia un movimento liberale, organizzato e significativo. Un caro abbraccio Enzo Palumbo. Come dire, come dire però, noi da buoni napoletani, un mire che manca al tempo e l'ammalato si ammala, muore. Ebbene, diamo una risposta immediata al nostro Presidente nazionale, dicendo che abbiamo anticipato un po' questi tempi, per cui il confronto che contribuisca a fare in modo che si trovi un percorso, questo tentativo, è stato superato. Superato. Superato perché vi spiego subito, in effetti, abbiamo avuto le adesioni a livello nazionale di componenti della direzione centrale. Giancarlo Morandi per la Lombardia, Acazio Funina presente qui per il Lazio, Eugenio Barca per la Calabria, Salvatore Boccheri per la Sicilia, tutti i quadri, dico tutti i quadri, nessuno escluso, delle cinque province della Campania, dal Presidente e Professor Francesco Sisca qui presente, e tutti i componenti delle varie sezioni sparsi in Campania, segreterie provinciali, segreterie provinciali di Caserta, il Dottor Tonino Miranda, segreterie regionali, segreterie componenti di tutti i dipartimenti, e, deciso in fondo, vi dirò che c'è stata anche l'adesione di Nuova Democrazia che conta, amici carissimi, ben 30.000 iscritti in tutta Italia. E allora il tema è i liberali, chiedo scusa allora, chiedo scusa, ma può sempre capitare, anche... Dicevo, il tema è i liberali italiani, quale è il futuro? Amici, noi viviamo, come tutti sapete, un periodo di crisi particolare, una crisi che coinvolge, avvolge le nostre famiglie, avvolge tutti i settori commerciali, industriali e imprenditoriali. Oggi viviamo un momento che credo dal dopoguerra sia il peggiore. però facciamo anche un po' di critica a noi stessi. Io ritengo che la causa non debba proprio riguardare altri, ma credo che possa riguardare noi stessi. Allora, quando questa sfiducia completa nei confronti della classe politica ha dato adito a far sorgere, e faccio il caso del Movimento 5 Stelle, la possibilità che il cittadino irritato, adirato, abbia fatto un voto di protesta, ahimè, ha determinato questa situazione attuale dove ci ritroviamo una serie di acefali al comando, nei quali ci sta un altro acefalo che è il primus inter partes tra gli acefali. Ma io vi chiedo, che cos'è la politica? La politica, terminologicamente, significa scienza. Scienza e tecnica. Qual è l'oggetto? La Costituzione, l'organizzazione e l'amministrazione dello Stato. Vale a dire regolamentare il Paese. dare un governo, un assetto definitivo al Paese. Ebbene, non più tardi di tre mesi fa, credo, in una serata ero andato a guardare la televisione, mi è capitato, come sarà capitato anche a voi, che nel programma dei Iene il giornalista chiedeva ad un deputato non di 5 Stelle, però del PD, voglio dire, e di Cuneo di nome Marco, chiedeva che cosa lui si sentiva di poter fare per cambiare le cose in Italia. La risposta testuale è stata se dipenderebbe da me le cose cambiano. Amici carissimi, io credo per costoro che hanno riportato tantissimi voti da poter essere stati eletti, anche se c'era il corcellum, è normale che se noi vogliamo, se ci fideremmo di queste persone, fossimo tutti fritti cari amici, vi pare? Vi pare? Ed allora tutto quanto vi ho detto di questi partiti improvvisati succede anche nel PD che potrebbe definirsi un partito di grande evoluzione, brava, ne avevo bisogno. ricordate non più tardi di qualche mese fa che il PD aveva nelle proprie file tutt'uno in termini univoci diciamo come con partecipazione politica anche i seguaci di non ricordo come si chiama quello lì che aveva l'orecchino il selle insomma i ventola e hanno preso le loro distanze dal PD lo stesso dicasi di coloro che appartenevano gli estremisti con il simbolo faccia e martello hanno fatto la stessa cosa ebbene oggi c'è il rischio veramente di prendere la broncopolmonite tante sono le correnti che esistono nel PD pensate che vi sono i veltroniani i dalemiani i bindiani i bersaniani i renziani i franceschiani i lettiani e chi più ne ha più ne metta questo partito fortunatamente sono circa 20 anni che non combatte il centro-destra ma tutte le strategie sono riportate a combattere un uomo Silvio Berlusconi fortunatamente sostengo e allora ritengo che noi liberali oggi qui riuniti in un momento che definirei storico abbiamo tutte le premesse tutte le basi per farci sentire perché noi abbiamo ancora il senso patrio il senso il valore della famiglia abbiamo valori che oggi non esistono più il valore della libertà amici non più tardi di dieci mesi fa ci riunimmo in questa stessa sala e partimmo per un progetto un progetto liberale che ci avrebbe dovuto vedere cosa che poi si è verificata al successo sì noi invocammo la partecipazione di colori che saranno poi la realtà presente non solo ma anche i futuri i giovani ai quali io dissi di invitare gli stessi giovani del 68 ebbene oggi posso dire che il partito liberale grazie a quando noi abbiamo con grandi sacrifici provveduto a una gioventù liberale che nessun partito credetemi in Italia può vantare e a capo di questa gioventù liberale vi ho un giovane che è qui in sala che è di grande enorme dignità il quale ha fatto in modo da allargare il raggio di azione che gli competeva è diventato il napolitano il segretario nazionale della gioventù liberale penso che un applauso lo meriti ebbene lo stesso abbiamo fatto noi nelle cinque province della campania contro e sotto il vento sotto la nebbia sotto la pioggia ci siamo sacrificati come se avessimo fatto un giornamento di Pontida siamo stati dovunque abbiamo creato sezioni abbiamo creato dipartimenti tutti i dipartimenti direi dalla sanità alle varie opportunità questo questo significa praticamente che abbiamo avuto fede abbiamo creduto in quanto facevamo ed abbiamo avuto dei grandissimi risultati al punto tale che se qualcuno in maniera più saggia avesse provveduto a livello centrale ad un apparentamento avremmo avremmo ottenuto un risultato tale che il premierato sarebbe cambiato sì perché lo zocco del duro del partito liberale conta ben 130.000 voti sarebbe tutto stato diverso pensate un poco ma invece la punta di diamante di tutta la nazione e la campagna perché tutto questo perché abbiamo dato il fuoco alle nostre alla nostra fede alla nostra volontà al nostro sacrificio e posso dire una cosa che è chiaro a tutti che mi fa piacere ricordare abbiamo fritto il pesce senza olio senza olio l'olio siamo stati noi con il nostro sacrificio con la nostra volontà a creare quanto è stato creato è per me motivo di orgoglio di immensa soddisfazione dire quanto vi sto appunto dicendo oggi è una giornata storica cari amici sapete perché perché non forse perché si uniscono due forze importanti si unisce un movimento molto molto importante quello dei moderati alla bandiera liberale ai liberali a quelli che hanno un valore storico a quelli che hanno una dignità storica a quelli che sono i figli di Benedetto Croce che diceva che il vero politico debba essere deve essere depositare delle aspettative di tutti i cittadini ebbene questa sera si verifica un connubio io l'ho definita convergenza reciproca non affluiamo nel MIR il MIR non affluisce nel partito liberale siamo un tutt'uno con pari dignità ebbene ebbene io devo presentarvi un uomo che ho definito in questo modo l'ho definito il poliedrico moderato Giacobbino che sogna la rivoluzione liberale bravo è un uomo leale è un uomo corretto è un avvocato è un docente universitario è una persona che io stimo profondamente stimo profondamente perché veramente ha dei valori però non è una persona per bene amici miei non è una persona per bene è un signore il che è diverso come vi ho detto più volte il perbenismo è qualcosa di fabulo di vago generico rispone un signore e il signore non tradisce mai non vi colpisce mai alle spalle e in politica avere una guida di un signore è tanto è tantissimo amici io ho superato il taglio politico stasera per dare spazio a quest'uomo il cui nome non me l'ho fatto ancora anche se a tanti di voi l'ho presentato è un uomo forte che tra l'altro si avvale di una collaborazione da parte di un altro uomo altro signore che io stimo e voglio molto bene e il dottor Gerardo Meribio che siede alla sinistra del nostro del nostro Giampiero Samori amici noi con Giampiero Samori dobbiamo procedere perché ritengo che con questa guida con un uomo che sa dove cosa mi chiede il paese possiamo ottenere dei grossi risultati per un progetto che non è utopistico ma è un progetto realizzabilissimo e noi a quest'uomo dobbiamo dare dedizione dobbiamo dare amore questa parola che diceva Dante muove le stelle e l'universo dobbiamo dare amore che significa dedizione che significa aiuto che significa sacrificio che significa disponibilità e non clientelismo disponibilità che significa di ritrovarci tutti qui per una prossima riunione più forti in un discorso univoco che ci veda fratellati e ci veda con grandi risultati perché le nostre forze sappiatelo le nostre forze e quelle congiunte dei moderati di Samorì determineranno la nascita e la presenza di istituzioni ufficiali a livello di municipalità a livello di comune a livello di provincia a livello di legione a livello di camere deputati e senato questa è la vera realtà per la quale noi qui stasera siamo uniti amici vi ringrazio ancora della vostra presenza ripeto mi avete reso felice e sappiate che vi voglio molto molto bene grazie solo che l'ultimo che parla può fare solo più brutta figura dopo quello che ha detto l'amico Pelella per la qualità della sala e la necessità di conoscere i congiuntivi e le aspettative del futuro solo che uno sbaglia una parola qui è finito quindi dovrò cercare di sforzarmi al massimo per non deludere nessuno io ringrazio per primo l'avvocato Pelella e il professor Pelella e tutti voi che siete venuti perché la cosa più importante per me è riuscire per così dire a divulgare un attimo le idee che ho perché l'Italia è una nazione che si è evitata in una situazione che va oltre il conservatorismo che è la qualità reazione di tipo istituzionale che è il pericolo maggiore che tutte le società dalla storia del mondo da quando è storia nel mondo hanno corso e in questa situazione la cosa più difficile è riuscire a farsi intendere perché i mezzi di informazione non danno spazio se non a chi parla un linguaggio conformista perché le istituzioni non danno spazio se non chi vuole proteggere le istituzioni e mentre questo succede la società civile va in un'altra direzione perché noi siamo nel pieno di una crisi che non è solo economica fortissima è una crisi economica è una crisi ideologica è una crisi culturale è la crisi di un modello di sviluppo che sta lasciando il passo a un altro modello di sviluppo del quale è difficile intuire le dinamiche evolutive perché è sempre stato così ogni qualvolta la società cambia purtroppo in pochi intuiscono le linee di cambiamento e tendenzialmente quei pochi sono o sbeffeggiati o emarginati se no che dopo un po' le situazioni che si erano anticipate si realizzano con grande documento per tutti perché più la cura la si rallenta e la si ritarda più è difficile che faccia effetto ora io ho questa visione della società e ho una visione della società che va oltre la contingenza ho una visione della società che guarda avanti 20, 30, 40, 50 anni e che si poggia su un postulato culturale che spero possa essere condiviso ma che non necessariamente lo è le società capitalistiche e democratiche si fondano da quando è storia su tre presupposti fondamentali il primo presupposto la tutela massima della impresa come strumento in grado di creare un benessere che debba essere diffuso la tutela massima del benessere collettivo diffuso che significa la tutela del mondo del lavoro e del mondo dei consumatori come strumenti fondamentali di sviluppo e di equilibrio dell'economia terzo la tutela delle libertà individuali che sono il bene primario sono un'eredità che abbiamo ricevuto a prezzo di sacrifici di lotte di sofferenze inenarrabili ed è un valore primario del quale noi ci dimentichiamo se noi torniamo indietro con la mente nella storia anche solo pensando ai grandi liberali del passato dobbiamo pensare quale fatica i popoli hanno percorso nel corso dei secoli e dei millenni per arrivare a garantire una compiuta libertà è evidente che questo valore è un valore che supera tutti gli altri non esiste possibilità di benessere compatibile se non esiste tutela della libertà ora per chi condivide questi tre postulati l'analisi dell'attualità è assolutamente deludente perché noi abbiamo costruito una società che è riuscita a realizzare la peggiore delle tre cose che noi potessimo immaginare è una società che ha dedicato tutto il benessere possibile ai ceti che non producono e che non lavorano è una società che ha danneggiato in modo vergognoso la tutela del lavoro e la dignità del lavoro producendo un effetto perverso che in nessun posto al mondo si è prodotto aver affamato chi lavora ma voi pensate che sia possibile creare una società nella quale chi lavora dispone di un reddito che non è più sufficiente a garantire una residenza dignitosa è una cosa che va contro la libertà di pensiero e di vita delle persone è una cosa che è inaccettabile sul piano morale ed è una cosa che non è funzionale alla società capitalistica perché la società capitalistica si basa sul consumo il consumo deve essere la conseguenza di un reddito che a propria volta è conseguenza di un lavoro decoroso che produce questo reddito io non mi meraviglio se esistono in tutte le società delle sacche diciamo così di sofferenza economica laddove queste sacche sono la conseguenza dell'assenza di lavoro di una condizione individuale di sofferenza perché questo purtroppo c'è sempre stato io mi meraviglio che diversamente da quello che succede in tutte le democrazie occidentali noi abbiamo creato una Italia nella quale chi lavora non ha più la dignità dell'esistenza questo non è possibile è inaccettabile sul piano morale ed economico poi abbiamo creato una società civile che è la società del privilegio è la società all'interno della quale tutti quelli che godono di posizioni istituzionali di privilegio beneficiano di tutti i diritti al di fuori e al di là di quello che è possibile ora noi per cambiare questo tipo di sviluppo dobbiamo essere radicali come sono stati radicali liberali della storia che hanno pagato con la vita le lotte contro l'assolutismo che hanno pagato con la vita le lotte contro il pensiero unico contro l'aristocrazia contro la società oligarchica perché altrimenti il finale di questa partita che è iniziata nel 1700 sarà di nuovo una società oligarchica e una società oligarchica è il contrario della società liberale è il contrario della dignità dell'uomo è una società fatta per pochi non è la nostra società perché alla fine del processo della società oligarchica c'è qualcosa che è ancora più sbagliato che è la società che si fonda sulla dittatura la involuzione ultima dell'oligarchia è la dittatura è quello che ha fatto naufragare i principi democratici e liberali nelle società del ventesimo secolo noi dobbiamo opporci e dobbiamo stabilire alcuni principi per entrare nel vivo del ragionamento il primo principio è quello che non è più possibile avere un primo tempo e un secondo tempo da quando io sono bambino ho sempre sentito dire a chi fa politica che prima bisognava fare una cosa poi si sarebbe fatta l'altra prima bisognava stanare gli evasori poi si aumentavano i redditi prima bisognava fare il viso duro nella giustizia poi si rettificava la giustizia eccetera eccetera non è più possibile guarda non è possibile noi oggi dobbiamo decidere di avere un programma ideologicamente orientato che consenda di fare in unico momento tutto quello che occorre fare e quello che occorre fare sono alcune cose fondamentali senza le quali noi non ci salviamo né in termini economici né in termini morali primo punto noi dobbiamo abbattere drasticamente in unico momento il debito pubblico perché dobbiamo fare questo perché se noi non abbattiamo drasticamente il debito pubblico noi non riusciamo a recuperare le risorse per investire su un nuovo progetto di sviluppo economico su una nuova società civile e tutti siamo d'accordo abbattere il debito pubblico bisogna vedere come e io dico che va abbattuto il debito pubblico toccando le sacche di ricchezza parassitari la banca d'italia che è sostanzialmente una promanazione dello stato ancorché formalmente sia controllata con quote al valore storico di molte banche il che già è un'anomalia nel nostro tema dispone di 280 miliardi di euro di riserve aure e valutarie disponibili io dico che quando in uno stato si impedisce la rivalutazione della svalutazione delle pensioni superiori a 1.100 euro al mese è immorale non acquisire al patrimonio pubblico questi 280 miliardi perché servono io dico che in uno stato che ha le difficoltà a mettere a disposizione per l'assistenza domiciliare dei malati di SLA che non fingono di stare male ma stanno male 60 milioni di euro all'anno è una vergogna lasciare 350 miliardi di euro nelle mani delle fondazioni bancarie e delle altre fondazioni che hanno deviato dai fini istituzionali del fondatore per consentire a 50 persone che esercitano il potere di controllo di queste fondazioni di avere di avere un potere di interdizione sulla società civile pagando la pubblicità sui giornali pagando i politici pagando le manifestazioni di tendenza questa è una vergogna quindi noi dobbiamo recuperare 600 miliardi del debito pubblico di 2000 miliardi da queste sacche di ricchezza improduttive funzionali solo al mantenimento del potere di poche persone che nulla più rappresentano se non se stessi ma poi i ceti dominanti i ricchi questa volta devono dare prova di intelligenza se uno di voi le rigenze le morie del conte di comte la sera prima che lo ghigliottinassero forse capireste quanto attuale è quello che vi sto dicendo disse il conte nel suo diario domani mattina mi ghigliottinano ma hanno ragione perché io ho partecipato di quei ceti che non hanno capito che la misura era colma quando ci chiedevano di alleggerire le tasse sui contadini e sui commercianti noi abbiamo risposto che gli aristocratici e il clero non potevano farsi carico di queste imposte e per gli aristocratici e per il clero queste imposte non erano nulla mentre per il popolo e i commercianti erano la vita oggi noi paghiamo quello che abbiamo fatto ora se noi vogliamo come classe dirigenti dare un segnale e pretendere quello che vi dico dopo questa volta dobbiamo dare un esempio e dobbiamo dire in un momento di crisi come questa per contenere il debito pubblico e ridurlo noi dobbiamo accettare in via straordinaria una tantum un'imposta sui grandi patrimoni superiori ai 10 milioni di euro netti perché dobbiamo crearci una legittimazione morale per poter pretendere le altre cose e quali sono le altre cose che noi dobbiamo pretendere contestualmente la prima la più importante che si dia un esempio dagli organi istituzionali di uniformare i loro costi di funzionamento a quelli europei io vorrei scrivere e appena avrò l'immunità parlamentare dirò molto peggio io vorrei scrivere al Presidente della Repubblica per dirgli che esempio dà il Quirinale nello spendere un miliardo all'anno di spese di funzionamento che è esattamente pari al doppio di quanto si spende a Buckingham Palace e all'Eliseo vorrei chiedere cosa si capisce del modo di essere della gente normale quando si tengono le tenute di San Rossore e le tenute ulteriori di Castelporziano dove spendiamo centinaia di milioni all'anno per allevare i cavalli e fare le riserve di caccia ma chi di voi è andato in America e a vedere cos'è Cam David io sono andato vi dico che Cam David è un ranch dove i nostri Presidenti della Repubblica non andrebbero neanche a dormire se si trovassero alla ghiaccio per quanto è modesta nella sua costruzione beh noi possiamo accettare che l'istituzione del Quirinale che è il capo famiglia di tutta l'Italia abbia questa capacità di spesa superiore al doppio di quello che succede nelle altre cancellerie europee dobbiamo chiedere solo agli operai che prendono 1.100 euro di ridurre i loro salari per uniformarci all'Albania e dobbiamo continuare a dare questi esempi poi io voglio pretendere e lo faremo quando saremo in maggioranza quando io sarò Presidente del Consiglio io voglio pretendere in unico momento che tutti i costi di funzionamento dello Stato si uniformino a quelli esteri se noi abbiamo 55 milioni di abitanti e la Germania ne ha 95 e la Germania ha 630 parlamentari e noi 960 noi li dobbiamo portare a 430 perché se no non c'è la competizione nel mercato internazionale se la Germania ha 7 membri della Corte Costituzionale noi 15 dobbiamo portarli a 7 e dobbiamo trattarli come loro e come loro come li trattiamo e come li trattano da noi il Presidente della Corte Costituzionale si è anche stato in carica un giorno un giorno prende 30.000 euro all'anno di stipendio per tutta la vita la macchina l'autista e le guardie del corpo in Germania ti danno la mano e ti dicono grazie e rivederci quando hai finito il tuo compito torni a fare quello che facevi prima e questo è il motivo se voi fate caso di quanti Presidenti emeriti della Corte Costituzionale noi abbiamo perché tutti sono furbi anche quelli che parlano bene ma razzolano male si nominano tutti nell'ultimo anno di carica nell'ultimo mese così ne abbiamo 50 da mantenere ogni generazione e questo non è possibile noi abbiamo degli istituti in Italia che non si riescono a spiegare all'estero io quando parlo con i miei colleghi avvocati in Inghilterra quindi con delle persone di cultura e gli spiego che in Italia abbiamo l'istituto del distacco non riesco a farmi capire perché sembra una barzelletta l'istituto del distacco è quell'istituto per il quale se tu sei nella dirigente dello Stato e ti chiamano a fare un altro lavoro nello Stato contemporaneamente prendi due stipendi e maturi due trattamenti pensionistici non si riesce a far capire all'estero com'è possibile questa cosa che è una vergogna morale e potrei continuare all'infinito pensate che il governatore della Banca d'Italia si è autoridotto da quando io ho cominciato a mettere in piazza i numeri lo stipendio prendeva 750 mila euro all'anno Draghi che è il suo superiore 350 mila il presidente dell'Inps in Italia prende 1 milione 800 mila euro il presidente dell'Inps in Germania 120 mila euro ma queste cose vanno dette in piazza dappertutto perché gridano vendetta perché non sono in varianza zero questo bisogna cominciare a capire attenzione ogni volta che lo Stato butta via in queste sacche di resistenza al cambiamento questi soldi sono sottratti all'economia reale sono sottratti alle imprese sono sottratti alle famiglie vengono sottratti sotto forma di maggiorazione dell'imposizione fiscale e questo è ingiusto soprattutto verso chi ha di meno punto e poi qui ci sono tutte le altre cose che sapete tutti via che è inutile dirlo cioè qui ormai proteggiamo con le scorte con le cose anche chi 40 anni fa ha fatto una legge per il distacco dell'unghia dal pollice cioè è un mondo che non funziona solo se le ceti dirigenti e i ricchi chi ha la fortuna la capacità la bravura di aver messo insieme un patrimonio per dire la verità ci sono in mezzo anch'io darà l'esempio e dirà io sono pronto a pagare la mia parte ma voglio che contemporaneamente non prima e dopo anche tutti gli altri si rimettano in regola forse riusciremo a uscire dalla situazione se no è impossibile nessuno degli interventi di questo governo del quale poi parlerò è in grado di migliorare la situazione sono variazioni sul tema che non toccano il problema e allora va cambiata la impostazione bisogna passare dalla variazione del tema al problema ecco in cosa consiste la rivoluzione liberale cioè nel capire che siamo in una fase in quale se si va avanti bene su un nuovo progetto di sviluppo se no non c'è niente da fare e anche qui bisogna culturalmente guardare avanti dove va il mondo tra 30 anni 40 anni 50 anni dove va il mondo in un'altra direzione il mondo va per aree di specialità ci saranno territori nei quali si va a prendere una cosa territorio un'altra e noi dovremo capire che lo sviluppo deve essere diverso se vogliamo rilanciare ecco perché occorre abbattere il debito pubblico per trovare le risorse per finanziare un nuovo modello di sviluppo ora tutti diciamo porto alcuni esempi tutti diciamo che l'edilizia è in crisi ma l'edilizia non è in crisi è in crisi irreversibile perché è in crisi il modello di edilizia che abbiamo perseguito voi pensate che si possa ancora continuare a fare delle villette a schiera dei condomini è impossibile noi dobbiamo rilanciare l'edilizia finanziando le demolizioni e le riqualificazioni territoriali non possiamo più fare case condomini non ce n'è bisogno se giraste con un elicottero sopra tutta l'Italia perché è tutto uguale è una vergogna sembra una metastasi che avvolge il territorio possiamo ancora continuare a fare quello sviluppo no dobbiamo finanziare un altro modello di sviluppo e così via noi dobbiamo anticipare i tempi fare come hanno fatto alla fine dell'ottocento e vi racconto un episodio che storicamente è vero noi dobbiamo fare una norma di legge che dica che fra cinque anni in Italia non è più possibile commercializzare delle auto che non siano elettriche o comunque che siano col motore a scoppio per riqualificare l'ambiente ma non solo per creare un'industria all'avanguardia non preoccupatevi delle resistenze iniziali se facciamo così fra cinque anni ci saranno dieci famiglie anielli nuove che saranno avanguardia nel mondo perché succederà la stessa cosa che successe in Italia all'inizio dei novecento sul finire del 1800 c'era una famiglia in Europa che si chiamava Von Sturm un Taxis famiglia talmente importante da aver acquisito il monopolio su tutti i trasporti di merce e di persona via ruota via ligenze carri quindi al netto delle ferrovie tanto importante che il nome taxi deriva dal nome di questa famiglia quindi voi potete capire assiomaticamente coincidente col concetto stesso di trasporto bene quando iniziarono a costruire queste macchine a motore a scoppio questa famiglia fece la malora perché capì che gli potevano intaccare il monopolio e cominciò una serie di campagne lobbistiche fortissime per ritardare la possibilità di commercializzare queste macchine e di produrle i motivi erano gli stessi che si aducano oggi quando io dico che bisogna impedire di costruire macchine con motore a scoppio e orientare le aziende in un'altra direzione le macchine erano pericolose vogliavano fare le infrastrutture si perdevano i posti di lavoro in quelli che costruivano le carrozze non c'erano più i maniscalchi eccetera 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 conclusione nelle nazioni più evolute dove queste campagne furono fatte lo sviluppo del settore automobilistico ha avuto un ritardo di vent'anni l'Italia era considerata un territorio povero dove non valeva neanche la pena investire in attività di lobby tant'è vero che queste attività furono fatte in Francia in Germania e in Inghilterra chi se ne fregava dell'Italia chi se ne fregava dell'Italia sono nate le principali industrie automobilistiche del mondo sulle quali l'Italia ha prosperato per 60 anni l'Isotta Fraschini l'Ivo Rivolta la Fiat l'Alfa Romeo la Lancia eccetera le altre aziende sono nate intorno agli atti 20 perché? perché hanno subito un ritardo costretto da queste forme di pressione e cosa vuol dire anticipare il futuro per avere un futuro? terzo valorizzazione dei beni che noi abbiamo e noi abbiamo il più grande patrimonio siccome ci sarà un fenomeno di specializzazione nelle aree geografiche ognuno dovrà vendere quello che ha di meglio noi di meglio abbiamo un patrimonio artistico e culturale inestimabile architettonico di ogni genere e però non basta più averlo bisogna culturalmente attrettarsi ad utilizzarlo a modo moderno cosa significa? vedete se uno va in Giappone bisognerebbe che noi facessimo ogni tanto qualche viaggio all'estero tutti quanti per capire quanto siamo indietro e uno va in alcuni musei di Tokyo hanno cominciato a esporre le nostre opere d'arte pittoriche ovviamente false cioè rifatte ma dietro queste hanno costruito una interattività nel senso che oleograficamente è ricostruita la fase di costruzione del quadro e il pittore che dipinge per far capire se quel pittore ha una tecnica che si passa dal bianco al nero dal nero al bianco perché? perché la gente oggi vuole qualcosa di di più vuole capire di più non è sufficiente guardare il quadro non è sufficiente guardare Pompei bisogna costruire un mondo intorno a queste situazioni cioè bisogna rilanciare l'idea dell'Italia museo all'aria aperta ma un museo all'aria aperta ha bisogno di un contesto che consenta il godimento di queste bellezze che noi abbiamo che le valorisca e che le renda vive perché la gente ha bisogno di un'interazione diversa pur solo facendo queste cose noi riusciremo a dare un futuro ai nostri figli perché il problema non è per noi noi siamo delle generazioni fortunate ma abbiamo goduto di una fortuna che ha desaurimento e non lo capiamo perché se io a tutti voi facessi la domanda retorica che faccio sempre chi di voi ha vissuto meglio dei propri genitori io credo che il 90% di voi risponderebbero io quasi tutti noi abbiamo vissuto meglio ma se io faccio a voi la domanda ma chi di voi pensa che i vostri figli i nostri figli o i nostri ipoti vivano meglio di noi quasi tutti mi rispondereste nessuno probabilmente vivranno peggio perché il modello di sviluppo che non tiene più è il tipo di società che abbiamo creato che sta diventando oligarchica in modo sbagliato ma non oligarchica per intelligenza o per merito anzi devo dire che la nostra non è una società senza meriti è una società che contrasta il merito è contro la meritocrazia è una società che si muove solo su linee che non hanno nulla a che vedere con la meritocrazia quindi noi dobbiamo cambiarla tutta contemporaneamente senza prima e senza dopo e dobbiamo farlo con degli strumenti appropriati da tutti i punti di vista chiaro bisogna avere la maggioranza è un lunghissimo percorso che può avere delle accelerazioni molto brevi perché poi la nostra differenza con Grillo la differenza dei liberali e dei rivoluzionari non è poi mica così grande sapete nel senso che lui riesce a intercettare un malessere urlato che noi per tradizione non possiamo esprimere ma è anche il nostro malessere verso una società che non funziona solo che noi abbiamo il dovere della responsabilità e il dovere della responsabilità vuole dire il dovere di poter dare delle risposte Grillo si può permettere di godere della distruzione e di dire questo non va lo distruggiamo noi no abbiamo il senso di responsabilità quindi per noi l'impegno è doppio la fatica è doppia ma ci riusciremo sicuramente è impossibile che non ci riusciamo perché il mondo va in quella direzione e al mio paese dicono che quando una goccia entra nella diga è solo questione di tempo e la diga siete voi nel senso che la goccia siete voi nel senso che grazie a questi incontri e alla vostra disponibilità io riesco a esprimere questi concetti e spero che questa goccia faccia breccia nella diga vengo a parlare per non sottrarmi del governo cosa penso del governo letta e tutto il male possibile dico che forse ha ragione Giuliano Amato quando ha detto è vero che il governo dei professori ha fatto schifo ma non è che la soluzione si rimedi passando dal governo dei professori al governo dei fuoricorso perché voglio dire se c'è una punta se c'è una punta di merito che dobbiamo riconoscere ai grandi personaggi della storia d'Italia è proprio quello che perlomeno sul piano culturale in certi momenti sono riusciti a così a esprimere delle eccellenze ecco io nel governo letta non vedo delle eccellenze ma vedo qualcosa di molto peggio vedo la retorica dell'istituzionalismo che è l'esatto posto della tradizione liberale e moderata per noi l'uomo è al centro dell'attenzione la libertà dell'uomo è un bene supremo per i regimi dittatoriali le istituzioni sono al centro dell'uomo guardate c'erano nella democrazia cristiana soprattutto all'inizio delle persone di grandissima cultura e grandissima intelligenza uno di questi era Guido Gonnella Guido Gonnella era direttore dell'Avvenire subito dopo la liberazione e poco prima e scrisse un articolo bellissimo quando gli chiedevano ma che differenza c'è fra i democristiani e i comunisti che alla fine avete lottato tutti contro il fascismo e dice una differenza molto grande entrambi vogliamo il bene dell'uomo ma non interessa l'uomo che vive oggi e quello che vivrà domani a loro quello che vive oggi non interessa a loro interessa quello che sarà domani ma un domani che non arriverà mai e nel frattempo se ne fregano dell'uomo che vive oggi questa è la differenza fra essere liberali e istituzionalisti chi ha una concezione che pone l'uomo al centro dell'attenzione non può accettare che le istituzioni siano fine a se stesse e valgano in quanto tale deve pretendere che le istituzioni siano al servizio del cittadino e quindi c'è una conversione culturale a 360 gradi nel rapporto con la pubblica amministrazione nei modelli di formazione culturale di istruzione di tutto quanto e questo governo è un governo di ammenicoli si mettono delle giri di vite per regolare alcune cose si dice è possibile fare il leasing nelle barche tra privati pagando la cedolare non serve a niente cioè si fanno piccoli aggiustamenti all'interno di un momento che è di una gravità cosmica e che ha bisogno degli interventi diciamo così drammatici di cui prima vi ho fatto cedo ma questo governo nasconde un insidio ancora più grave perché vedete io dico adesso una cosa che non si può più dire in Italia perché se noi la diciamo quasi quasi ci arrestano i comunisti e il comunismo esistono ancora ci hanno raccontato che non è vero ma è vero esistono nella mentalità e nella formazione che hanno avuto da giovani esistono ancora in Parlamento e non solo in Parlamento persone che hanno votato contro l'ingresso dell'Europa nella Nato che hanno espresso solidarietà a Stalin negli anni delle purghe persone che hanno votato a favore di emozioni che plaudevano l'intervento dell'Unione Sovietica in Ungheria persone che hanno votato contro i Persing e i Cruisi l'ingresso nella Nato l'ingresso nella comunità europea nella Ceca che hanno votato tutto contro quello che è servito a farci diventare nazione civile e che se fosse stato per loro noi oggi saremmo come il Kazakhstan neanche come la Romania e oggi ci vengono a spiegare come si gratiscono le istituzioni cos'è la democrazia ma è possibile no non è possibile queste persone sono le stesse e quando avrò l'immunità parlamentare io pubblicherò in tutta Italia alcuni giornali firmati da personaggi eccellenti dei quali oggi nessuno ha il coraggio di parlare o di ricordarsi e allora capirete che quando io sento dire l'istituzione no no tutte sciocchezze un governo ha senso se governa nell'interesse della gente non ho sentito da questo governo un provvedimento che riduca i privilegi di cui vi ho detto prima né un provvedimento che riattivi la precondizione fondamentale perché l'economia riparte che è l'accesso al credito noi siamo l'unica nazione nella quale l'accesso al credito è inibito ed è inibito perché siamo l'unica nazione che nel voler sostenere che le banche vanno bene quando sono sostanzialmente tutte defaultate ha posto le imprese e le famiglie al servizio del risanamento delle banche in Germania che non è una nazione comunista in Inghilterra che non è una nazione comunista in Francia che non è una nazione comunista lo Stato ha rifinanziato rendendo le pubbliche le banche defaultate in Germania con 1140 miliardi di euro in Francia con 750 miliardi e ha costruito quei patrimoni necessari per fare il credito e il credito è ripartito da noi il credito non riparte non si vogliono fare questi interventi straordinari perché questi interventi vorrebbe dire avverare le classi dirigenti bancari e siccome le classi dirigenti bancari sono quelle che oggi esercitano il potere reale ne riprova che nei centri principali dello Stato hanno inserito dirigenza di Banca d'Italia il ragioniere generale dello Stato il presidente della RAI il ministro dell'economia ecco che allora il bianco non si vuole chiamare bianco il nero non si vuole chiamare nero se noi non riattiviamo il mercato del credito se noi non ridiamo credito alle famiglie le imprese meritevoli perché oggi non vi è dato a nessuno indiscriminatamente l'economia non può ripartire è una costante io potrei parlare ancora per un'ora però immagino che vi ho già stancato voglio solo chiudere con una notazione quella è la mia speranza noi abbiamo costruito questa associazione che è un'associazione non è un partito che però si presenta in diverse competizioni che ha l'ambizione sostanzialmente di raccogliere l'eredità del migliore centrodestra italiano di vincere le elezioni e di portare all'attenzione del governo questo programma noi abbiamo bisogno di qualità e io credo che la migliore qualità oggi in Italia la si trovi all'interno del partito liberale io penso e spero che tutti voi vogliate partecipare con noi alla costruzione di questo progetto che ha un po' di utopico ma voi sapete che senza le utopie non si arriva da nessuna parte che se uno non ha un ideale molto forte non riesce a convincere nessuno che se uno quando parla non dà la sensazione di dire cose che pensa non riesce a catturare l'attenzione delle persone e quindi io spero che l'avvocato Pelella sia disponibile ad assumere un incarico molto importante io spero che lui accetti di diventare vicepresidente nazionale del nostro movimento e spero che mi aiuti nel compito molto complesso e molto difficile di concorrere a creare una nuova classe dirigente grazie professor Samorie ha lanciato provocazioni e delle proposte che penso l'avvocato Pelella dovrà prendere in considerazione io credo ringrazio innanzitutto di questa fiducia di questa stima che mi ha voluto riconoscere l'amico Gian Piero Samorie e però ritengo che la risposta non debba aspettare al sottoscritto dicevo poc'anzi nel mio intervento che hanno tutti presenti credo ad esclusione di un 40-50 di presenti tutti collaborato con me per questo risultato che è stato prodigioso in Campania quindi io ritengo che tutti i presenti in questo preciso istante debbano dare una risposta alla nostra futura guida all'amico Gian Piero Samorie vale a dire se loro ritengono di aderire e quindi di accettare questa proposta che vede me come dice Presidente Nazionale è già pieno la risposta c'è stata grazie amici grazie ancora grazie